Covid, elezioni legislative e presidenziali, un mix esplosivo in Bulgaria che domenica prossima cerca la quadra per trovare una maggioranza parlamentare in grado anche di rispondere all'emergenza sanitaria. Si vota anche per scegliere il nuovo capo di Stato, l'attuale presidente Rumen Radev si ripresenta. Fino a qualche settimana fa i sondaggi gli attribuivano oltre il 50% dei voti, le vicende dell'ultimo anno e il braccio di ferro tra presidente e magistratura hanno sollevato critiche proteste contro il presidente che resta comunque una figura imprescindibile del panorama politico bulgaro. Estando ad alcuni analisti il braccio di ferro ha giovato al presidente criticato dai suoi rivali politici per aver incontrato i suoi stessi oppositori. Il presidente ha fatto quanto è nelle sue competenze, ha riconosciuto la richiesta della gente, di una parte della gente come legittima e l'ha sostenuta. Questo ha fatto di lui una figura imprescindibile del panorama politico bulgaro, anche se non ha le stesse funzioni del premier. Radev è stato accusato di cavalcare il malessere dei cittadini che per mesi sono scesi in piazza accusando il governo in carica del premier Borisov e del suo gerb di nepotismo e corruzione. Il panorama politico bulgaro rimane frammentato ed è difficile immaginare cosa uscirà dalle urne se finalmente si arriverà a formare un governo di coalizione. Il cambiamento è stato al centro della vita politica di quest'anno, i partiti l'hanno riconosciuto e potrebbe essere la base di una coalizione in Parlamento. A qualche giorno dal voto si può dire comunque che le principali forze politiche, dai socialisti alla destra liberale, sembrano mantenere le posizioni emerse dall'ultima tornata elettorale e per le presidenziali si andrà sicuramente al ballottaggio.